Tra il sì e il no c'è anche il dipende, cioè sì no alla vaccinazione c'è anche il dipende espresso per esempio dall'euro parlamentare del Movimento 5 Stelle, Pier Nicola Pedicini che è coordinatore della Commissione Sanità del Parlamento Europeo. Si parla di una terza via sostanzialmente. Quella è la nostra posizione perché noi vediamo cosa succede in Europa. Naturalmente non si passa dalla obbligatorietà a una raccomandazione forte, a un approccio di tipo raccomandazione forte come viene adottato in tanti stati membri dell'Unione Europea con risultati superiori a quelli dell'Italia a livello di copertura di vaccinazione. Però c'è necessità dell'avvio di un approccio in questo senso che per noi è la strada migliore per coinvolgere i cittadini, le famiglie in modo che loro sappiano, siano maggiormente consapevoli e possono scegliere la cosa migliore per i loro figli insieme al medico che ovviamente deve fare un consenso informato. Noi non siamo contro la vaccinazione, ne riconosciamo tutti i meriti, però sappiamo anche che in questo settore c'è grande sfruttamento di alcune situazioni, le case farmaceutiche non sono da meno in questo mentre siamo per una vaccinazione mirata che sia quella appropriata e che quindi si bate su un'evidenza scientifica certa. Ci sembra per quanto meno esagerato, eccessivo, le indicazioni, io ho letto quel documento della federazione degli ordini dei medici, dei medici chirurghi e odontoiatri, che prendono una posizione molto forte che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista è abbastanza rischiosa perché questo credo possa inasprire gli animi all'interno della medicina, del mondo medico in generale ma anche nel rapporto tra i medici e i pazienti, i medici e le famiglie. Di base c'è un cattivo rapporto che non vuole essere risolto tra il medico e le famiglie, i pazienti cioè non è che c'è un cattivo rapporto ma non c'è un rapporto di fiducia, è andato un po' decadendo questo rapporto di fiducia nel tempo e io credo che non aiuti questa presa di posizione forte della federazione degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Comunque il senso è che io credo che una posizione così forte addirittura alla radiazione possa portare una medicina difensiva da parte di molti medici, anche di fronte, io ho qui il documento davanti a me, si parla soltanto di un problema relativo ai sistemi immunitari, solo quando c'è un sollecito del sistema immunitario importante allora in quel caso non scatta la radiazione come... È giusto prendere delle precauzioni se ci sono degli squilibri nel sistema immunitario del bambino insomma... Esatto, solo in questo caso qui, ma ci sono tante altre situazioni come... che possono creare problemi come bambini che possono essere nati prematuri, che hanno basso peso, bambini epilettici, cerobropatici, alcuni che possono essere HIV positivi oppure con malescenti, alcuni altri moderatamente che possono avere una febbre moderata, insomma ci sono situazioni che non sono contemplate in questa situazione estrema che mettono il medico di fronte a una situazione molto difficile e adesso di fronte a questo provvedimento così forte si troveranno sicuramente in estrema difficoltà e adotteranno dal mio punto di vista una medicina difensiva che non aiuta nessuno. Certo gli effetti collaterali vanno sempre considerati, perché questa è una medicina preventiva e quindi va adottata certamente in maniera ammirata, ma adesso se parliamo dell'obbligatorietà, noi in Italia si è deciso di rendere obbligatori 4 vaccini, ma di fatto se ne erogano 6 con la formulazione esavalente, questo è un eccesso che non aiuta perché intanto c'è una spesa aggiuntiva che non è giustificata, ma vabbè non parliamo di questo, ma perché dare 6 se ce ne sono 4 obbligatori. Allora è naturale che anche quei due aggiuntivi hanno bisogno di raggiungere una copertura vaccinale adeguata, però per raggiungere quella copertura vaccinale adeguata, visto che la legge impone di adottarne 4, ci sono altri metodi che si basano sulla collaborazione, su un'anagrafe ad esempio vaccinale in cui tu, medico, chiami la famiglia, ci parli, gli spieghi che è meglio farlo, ma in alcune situazioni sì, insomma c'è un approccio diverso, più rilassato, meno forzato che può aiutare a raggiungere risultati di copertura superiore a quelli attuali, se questo è il problema. E questo è il modello che viene adottato nel nord Europa, mentre qui in Italia si preferisce un popolo bue che non capisca cosa sta succedendo perché gli si impone sempre di più un qualcosa. Meglio dire vaccinare meglio che vaccinare di meglio. Ok, vaccinare meglio. Oh, poi però ci sono, e sono tanti, in Italia che scrivono e ci arrivano tanti messaggi in questo momento. Vaccinare non significa immunizzare e volete parlare di scienza? Forse dovreste informarvi meglio, cioè c'è proprio una sfiducia di fondo sul significato della vaccinazione? Beh, sicuramente anche su internet vanno date informazioni, va fatta una campagna informativa da parte del mondo della medicina anche su questi canali di comunicazione. Non basta il rapporto diretto con il medico, va fatta una controinformazione purtroppo su internet per dissuadere a riferirsi a questo tipo di messaggi. È chiaro che bisogna avere un atteggiamento critico perché abbiamo visto che le case farmaceutiche ne approfittano e sono capaci di condizionare anche la ricerca scientifica in tanti campi e quindi loro abusano di questa necessità. C'è una necessità da parte della popolazione, ma loro abusano di questa necessità. Però questo non significa che poi dopo le persone arrivano addirittura a pensare che questa cosa sia inutile o dannosa. Ecco, anche in questo caso bisogna essere critici, ma con l'obiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini, non altro.